Ok. Coppate tutti i fagottini subito prima che finiscano, ragazzi. Una sera siamo andata a ballare e non avevamo un posto dove dormire. Abbiamo fatto mattina proprio questa discoteca sulla scogliera. Quindi poi, quando siamo uscite dalla discoteca, ci siamo poggiate a dormire in macchina. Tra l'altro io ero andata prima di lei. Quando lei è arrivata mi ha detto che c'erano dei tipi che avevano squattato i fatti dietro.